Il Consiglio di Stato punisce il Cersu e blocca un altro contratto senza gara. Vaccini e giustizia. Nell'inchiesta è indagato anche il presidente del CDA dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Regione visita a sorpresa del governatore a Teramo. Priorità per il recupero dell'ex manicomio. Castello della Monica. Brucchi e Di Pasquale. Polemica a distanza. Ma D'Alfonso ribadisce. I soldi ci sono. Pescara ha presentato un nuovo mezzo dei vigili urbani dotato di telelaser, drug test ed etilometro. Giovani e religione. Torna ad agosto la Tendopoli al Santuario di San Gabriele. Sport calcio. Donna Rumma dal ritiro di Malè. Siamo un buon gruppo. Ho sensazioni positive. Settore giovanile. Una scuola calcio nel nome di Nino Bonolis lavorerà con la Roma. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Il Consiglio di Stato interviene sul Cersu per impedire l'affidamento senza una gara d'appalto dei lavori di sbancamento per la nuova discarica di Grasciano. Resta nell'occhio del ciclone il Cersu su cui si abbatte la scura del Consiglio di Stato. Ma stavolta non è solo una sentenza contraria, bensì una misura cautelare che vieta la stipula di un altro contratto con la Ecomax per la realizzazione della nuova discarica di Grasciano. L'intervento dei giudici amministrativi di ultima istanza è di ieri. Costretti a intervenire per impedire che il Cersu, contravvenendo la precedente pronuncia del 24 aprile, proseguisse con arrogante atteggiamento ad affidare senza una regolare gara d'appalto i lavori di sbancamento del nuovo sito. Le misure cautelari non sono iniziativa consueta del Consiglio di Stato, è un atto estremo a provocarlo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso che il Cersu avrebbe affidato entro dieci giorni e ancora una volta senza procedura di evidenza pubblica i lavori alla Ecomax. Proprio su questo aspetto il Cersu aveva ricevuto la censura del Consiglio di Stato, cui avevano fatto ricorso le aziende concorrenti della Ecomax, che si ritenevano danneggiate dal mancato invito ad una gara. Estrema urgenza e importo dei lavori al di sotto della soia comunitaria erano state le motivazioni addotte dal Cersu, clamorosamente smentite dai giudici, che però hanno parlato al vento, evidentemente, se è vero che clamorosamente il Cersu ha insistito con l'avviso in Gazzetta Ufficiale. Atto arrogante o azione imperterrita in assenza di qualsiasi controllo pubblico? Il dubbio è amletico. La Regione resta a guardare, pur leggendo e ascoltando, dappertutto, delle vicende negative che avvolgono il Consorzio pubblico dei rifiuti. Dagli incidenti ambientali, con sversamenti e incendi, alle carenze amministrative e documentali, vedi fiduizione fantasma, il Cersu continua a sfidare. Adesso anche il Consiglio di Stato. E se da un lato torna ad assicurare il pagamento delle pendenze debitorie in queste ore, dall'altro approfitta della vacanza istituzionale a livello regionale. Con il dirigente dei settori rifiuti, Franco Girardini, distratto e il governatore D'Alfonso concentrato sull'avvio della sua legislatura, qual è la posizione degli altri consiglieri regionali terramani, di destra e di sinistra, su questo scandalo di provincia? Si avvia verso le richieste di rinvio a giudizio l'inchiesta della magistratura romana sui vaccini e animali e tra i 41 indagati spunta anche il nome del presidente del CDA dell'Istituto Zoprofilattico di Teramo. Sentiamo. Il suo nome, come quello di un altro scienziato vicino al ZS Teramano, spesso presente in commissioni seminatrici per concorsi, Ugo Vincenzo Santucci, figura soprattutto nella parte di indagine che affronta il tema specifico di quella cupola scientifica che avrebbe non soltanto valutato l'efficacia dei vaccini, ma che ne ha poi deciso la somministrazione a copertura totale sul territorio nazionale. L'inchiesta ha fatto molto rumore perché i timori di riflessi negativi sull'economia zootecnica che nei primi anni 2000 portarono centinaia di elevatori italiani a invadere le piazze e perfino assediare la sede dell'Istituto Zoprofilattico a Teramo, a distanza di qualche anno sono stati confermati dal lavoro della magistratura romana. Il cui conto finale adesso potrebbe essere salatissimo, e non solo sotto il profilo del conteggio penale. Il danno erariale, fatto di approvvigionamenti inutili i vaccini poi mandati alla distruzione, è milionario, tanto grave quanto il danno provocato alle popolazioni ovine, caprine, bovine e aviarie. Una economia in ginocchio per decisioni a tavolino, con campagne vaccinali fondate su criteri scientifici che saranno sia argomento di discussione in un'alua di tribunale, ma che nel frattempo hanno agito davvero il proprio fragello. Ieri Romano Marabelli si è autosospeso dalla carica di segretario generale del Ministero della Salute. Il ministro Lorenzin, lo stesso che lo aveva nominato nonostante l'attualità dell'inchiesta su di lui, ha accolto la decisione dell'alto dirigente manifestando apprezzamento per la sensibilità istituzionale mostrata, ha detto il ministro, e certa che potrà dimostrare la sua estranità ai fatti. Dei 41 indagati è l'unico che ha comunque sentito il bisogno civico di una presa di distanza formale in attesa di una definizione del procedimento penale. Alla vigilia di sicure richieste di rinvio a giudizio. Visita a sorpresa questa mattina del governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a Teramo. D'Alfonso, accompagnato anche dall'ex vice sindaco, oggi consigliere comunale Alfonso di Sabatino Martina, ha incontrato sindaco, prefetto, questore e commissario di Banca Tercas. D'Alfonso ha assicurato l'interesse della regione per il territorio teramano e tra le priorità ha inserito il recupero dell'ex manicomio. La regione Abruzzo, presidente, assessori e consiglieri regionali, sono tutti in un concerto interessati ad aiutare il cammino di crescita della città di Teramo e della provincia. Lo ha detto il presidente Luciano D'Alfonso che questa mattina ha incontrato il sindaco di Teramo, il prefetto e il commissario di Banca Tercas. Per D'Alfonso una delle priorità è mettere in campo un progetto all'altezza per il recupero del manicomio di Teramo. Il presidente ha assicurato l'impegno della regione anche per i beni culturali a partire dal Castello della Monica. I bersagli di investimento riguardanti i beni culturali e non solo saranno bersagli anche della programmazione puntuale di ente regione, ciò che è in cammino verrà recuperato e verrà restituito anche ad una potente attività realizzativa. E poi ho voluto concordare col sindaco di Teramo ma anche con il prefetto una concentrazione particolare per mettere in campo un progetto all'altezza per il manicomio di Teramo che non solo nell'Ottocento ma anche in una prima parte del Novecento è stata una significativa struttura anche a valenza economica, non solo sanitaria e oggi anche culturale dell'intera realtà regionale. I progetti però finora messi in campo per il recupero dell'ex manicomio sono tutti naufragati. Adesso ci lavoriamo utilizzando anche le opportunità nazionali e non solo, insomma diventerà una priorità dell'agenda della regione. Priorità che ha affrontato con il prefetto? Sono priorità riguardanti il sistema viario provinciale che è pieno diciamo di debolezze, anche di rischi e di criticità, soprattutto in prossimità della stagione invernale. E poi il patrimonio scolastico destinato a derogare il diritto all'istruzione. Noi l'uno e l'altro patrimonio, quello viario e quello scolastico, lo dobbiamo rendere bersaglio di investimenti di manutenzione. Col prefetto della città di Teramo ci siamo lasciati anche nel convocare una riunione ad hoc sul manicomio. Insomma noi vogliamo mettere all'ordine del giorno quello che è atteso da anni in questa città e in questa provincia. Infine Banca Tercas e Caripe, qual è il suo impegno ma soprattutto qual è la sua speranza per il futuro di questo istituto bancario? Di non far essere l'Abruzzo un deserto sul piano bancario, di fare in modo che il più possibile si possa ricostituire un'attenzione che abbia qui sensibilità da cuore, sensibilità da cervello a favore delle imprese abruzzesi. Io sono qui per dire che Regione Abruzzo farà tutta la sua parte e si fermerà un millimetro prima di sconfinare nella illiberalità. Tutto ciò però che è consentito da una condizione liberal-democratica e di rispetto dell'autonomia del mercato e delle banche noi lo faremo. Ci siamo come una grande istituzione che vuole aiutare il recupero del tempo perso e il recupero anche rispetto a situazioni dannose. Il Presidente D'Alfonso ha assicurato al Sindaco Brucchi che i fondi per il recupero del Castello della Monica ci saranno e ha chiesto al primo cittadino terramano di preparare una programmazione di quelle che sono le esigenze del territorio comunale. Il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina è stato in municipio a Teramo, ha incontrato il Sindaco Maurizio Brucchi e l'ha rassicurato principalmente sui fondi per il Castello della Monica. Il Presidente le ha detto che i fondi ci sono? Innanzitutto una visita inaspettata ma molto gradita. Il Presidente era a Teramo, mi ha telefonato lui personalmente e mi ha detto se poteva salire a salutarmi. Quindi davvero una visita gradita così come inaspettata. Il Presidente è venuto qui a tranquillizzarmi sul fatto che i fondi per quanto riguarda il Castello della Monica ci sono. Mi è venuto anche a dire di preparare una programmazione per quanto riguarda le esigenze del nostro territorio, del territorio comunale. Abbiamo parlato di tanti interventi, abbiamo parlato del Teatro Romano, abbiamo parlato dell'ex manicomio, abbiamo parlato degli spazi relativi all'ex Università Viale Crucioli. Insomma abbiamo affrontato diverse tematiche, ha gradito il terrazzo dove ci troviamo, che era la prima volta che lui aveva l'opportunità di salire su questo terrazzo e quindi in qualche modo ha tranquillizzato me, ma ha tranquillizzato tutta la cittadinanza terramana perché vede quello che qualche rappresentante politico di questa città non capisce, che il Castello della Monica non è patrimonio di Maurizio Brucchi, il Castello della Monica è patrimonio di questa città. Il Presidente stesso oggi è venuto qui a dirci che il finanziamento per il Castello della Monica è salvo. E i tempi gliele ha detti? Non abbiamo parlato dei tempi, abbiamo parlato però del fatto che io nel giro di 7-10 giorni ci sarà una riunione importante con il Presidente che si svolgerà qui a Teramo. Possibile anche che si possa creare un tavolo all'interno dello stesso ex manicomio perché il Presidente su mia segnalazione ha condiviso il fatto che l'ex manicomio è sicuramente l'emergenza più importante di questo territorio. Quindi io ringrazio il Presidente Luciano D'Alfonso, lo ringrazio per questa visita in aspettato. Io ieri avevo chiesto a Ruffini di poter incontrare il Presidente e oggi il Presidente è venuto qui personalmente. Il Consigliere Comunale di Teramo del PD Manola Di Pasquale intanto ribadisce la delibera regionale con la quale è stato assegnato il finanziamento per il Castello della Monica è un blef, i soldi però non andranno persi. Manola Di Pasquale ha sottolineato un aspetto che ha definito singolare e cioè che il Comune di Teramo tra i progetti presentati per avere questi fondi ha inserito anche un museo del gatto. Sentiamo. È un blef la delibera regionale che assegna i fondi al Comune di Teramo per il Castello della Monica. Lo sostiene Manola Di Pasquale del Partito Democratico. Sulla base di quali atti? Vi era un residuo di fondo Cipe di circa 16 milioni di euro della Regione Abruzzo, ovviamente governo Chiodi, che nei cinque anni non erano riusciti né a fare progetti né a spendere. Il marzo 2014, cioè alle porte della campagna elettorale, si è in fretta e in furia fatta una delibera di giunta nella quale si riassegnavano questi fondi per varie province e in particolare a Teramo si davano i 2 milioni per il Castello della Monica, che nel territorio aveva fatto da anni delle richieste su questo castello. In realtà però mancava dietro una programmazione effettiva cioè l'applicazione dei criteri che sono richiesti proprio dai fondi Cipe per poterli utilizzare e per poterli spendere. Come dire, i soldi ci sono, però non c'è il progetto? Come dire, io presento una richiesta di concessione di edilizia per fare una casa, ma non c'è il progetto. Però dico, eh ma io l'ho presentato il progetto della concessione di edilizia, però dietro non c'è il progetto, per cui inevitabilmente il Comune avrebbe reggitato l'istanza, da lì a breve. Ma da lì a breve c'era un nuovo governo, che era quello ovviamente di Luciano D'Alfonso, che ha dovuto necessariamente revocare la delibera in autotutela, ma questo non significa che non si riprenderà in esame le richieste fatte dal Comune di Teramo per utilizzare i proventi che derivano dal Cipe, sempre se queste richieste siano state fatte nel rispetto dei criteri della delibera Cipe. Vorrei solamente ricordare che in queste richieste al Comune di Teramo, oltre che chiedere 2 milioni per il Castello della Monica, chiesto 50 mila euro per costituire un museo del gatto. Ecco, io mi domando se Teramo ha come necessità prima di tutto un museo del gatto, che sarà pure importante. Io non lo metto in dubbio, ma penso che Teramo ha altre più importanti priorità rispetto alla costituzione di un museo del gatto. Quindi credo che forse il Comune dovrebbe rivedere queste richieste che è avanzato al Comune, alla Regione per i veri fondi. La cronaca grave investimento oggi pomeriggio sul lungomare Sirena a Tortoreto. Un uomo di 74 anni è stato falciato da una macchina mentre attraversava la strada per recarsi sulla spiaggia. L'incidente si è verificato all'altezza dello chalet bandiera gialla. Nell'impatto l'anziano è stato sbalzato a qualche metro di distanza ed è ricaduto pesantemente sull'asfalto, riportando diversi traumi, tra i quali quello più preoccupante al torace. È stato immediatamente soccorso dall'equipaggio medicalizzato di Alba Adriatica del 118 e trasferito al vicino ospedale di Giulianova, dove è ricoverato in condizioni serie. Ruba all'interno di un'agenzia di scommesse assieme ad alcuni complici, ma viene identificato grazie al video che il titolare derubato pubblica su Facebook. È successo a Giulianova, dove un macedone di 27 anni, residente a San Benedetto del Tronto, è stato denunciato in stato di libertà per furto in concorso, grazie all'intraprendenza del titolare dell'agenzia che ha messo a disposizione dei carabinieri e ha poi postato sul suo profilo del social il filmato dell'impianto di videosorveglianza. Il macedone, assieme a due complici ancora da identificare, aveva forzato la saracinesca ed era entrato nel locale sottraendo 2.500 euro in contanti dalla macchinetta cambia soldi e due casse portavalori. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Pescara, telelaser per il controllo della velocità, drag test ed etilometro. Sono alcuni degli strumenti innovativi di cui si è dotato il nuovo mezzo a disposizione dei vigili urbani di Pescara e servizio. Si è tenuto a Pescara presso il comando della Polizia Municipale di Via del Circuito la presentazione del Citroen Jumper, uno studio mobile per il controllo del territorio in dotazione alla Polizia Municipale. Di seguito le interviste all'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Pescara del Chi sul Pizio e al comandante del Corpo Carlo Maggitti. Oggi noi il messaggio che vogliamo dare alla cittadinanza, vogliamo rivedere un po' il ruolo del vigile urbano, che non può essere visto come un agente che fa le multe, ma deve essere visto soprattutto come un'attività di supporto alla cittadinanza e questo ufficio rappresenta un po' l'emblema, avremo questo ufficio che è un vero e proprio ufficio mobile che si sposterà dove ci sono le emergenze, dove ci sono le criticità, ma anche per una semplice attività di controllo, quindi per esempio a fine settimana sarà anche per le attività di supporto a determinati concerti, sarà un'attività di vicinanza alla cittadinanza. Noi l'input che vogliamo dare con l'amministrazione è di spostare l'attività dei vigili urbani sul territorio, a piedi, vicino ai cittadini, vicino alla cittadinanza. Noi abbiamo già avuto un aumento del 15% della quantità di agenti che si sono spostati dagli uffici per andare sul territorio. Si tratta di un mezzo attrezzato, un jumper della Citroen che andrà a dare impulso a quella che è la figura del vigile di prossimità, del vigile di quartiere nelle zone più esterne, più periferiche, meno servite di Pescara, quindi lo abbiamo immaginato con un progetto approvato dalla Regione e cofinanziato dalla Regione Abruzzo per circa due terzi del valore del mezzo. Parliamo del valore totale, il costo totale è 65 mila Euro di cui circa 45 mila cofinanziati dalla Regione. Il resto è il Comune che si è attivato proprio in questo progetto per il cofinanziamento utilizzando dei fondi residui di una gara del 2009 che non era mai stata completamente portata a termine, quindi riadattando dei fondi il Comune si è dotato di questo nuovo mezzo per dare intanto assistenza alle zone più lontane dal centro cittadino, immaginiamo San Silvestro, immaginiamo Zanni, alcuni quartieri anche popolosi di Colli, Fontanelle, dove l'ufficio mobile proprio potrà ricevere anche all'interno in un ambiente confortevole ad oggi anche con aria climatizzata, quindi soprattutto in queste giornate calde i cittadini che vorranno tranquillamente sedersi, fare delle loro segnalazioni non soltanto da un punto di vista di Polizia Municipale ma anche da ciò che attiene al degrado cittadino, ai parchi, alle strade. Mezzi di cattura illegali per la fauna selvatica sono stati scoperti dal personale del Corpo Forestale dello Stato del Comando di Rocca Santa Maria durante i normali controlli del territorio. Gli strumenti erano collocati in località Sette Fonti di Valle Castellana in pieno parco nazionale ed erano costituiti nel caso specifico da lacci in acciaio di circa due metri ben legati ad alberi e posizionati nascosti tra la boscaglia lungo sentieri frequentati da fauna selvatica protetta in modo da intrappolare i selvatici al loro passaggio. Del fatto è stata tempestivamente interessata l'autorità giudiziaria che ha autorizzato e convalidato il sequestro. I cittadini residenti lungo la strada comunale che collega la provinciale Castellalto Castelnuovo con Colle di Giorgio sono esasperati. La strada è impraticabile, quando piove non possiamo né uscire di casa né fare ritorno nelle nostre abitazioni, dicono. E' drammatica la condizione in cui versa da più di 30 anni la strada comunale che collega la provinciale Castellalto Castelnuovo con la località Colle di Giorgio Pianvilla e denunciata nuovamente da alcuni residenti. Canali di scolo fognari, pendenze pericolose e un percorso invaso dal fango durante il maltempo. A causa delle condizioni di sestate, quando piove infatti i residenti restano bloccati in casa, impossibilitati anche a recarsi al lavoro. Ad otto mesi di distanza da una denuncia precedente, alcuni residenti che abitano il luogo tornano a chiedere una soluzione al sindaco Vincenzo Di Marco, accusato di aver disatteso le promesse sul risanamento e sulla realizzazione di opere necessarie a garantire la sicurezza e la transitabilità della via. La strada versa in condizioni inqualificabili da 30 anni, spiegano i cittadini. Eternit, pianali di legno in bilico sul ciglio stradale, canali di scolo fognari e un percorso invaso dal fango durante il maltempo, ci rendono letteralmente impossibile la percorribilità della via. Quando piove, proseguono, siamo costretti a lasciare le nostre auto sulla provinciale e muniti di stivali facciamo una bella passeggiata nella fanghiglia, rischiando anche qualche scivolone. Questo fa sì che le automobili restano incustodite sulla strada provinciale, diventando oggetto di furti o atti vandalici, come è accaduto ad una ragazza residente in zona, che ha ritrovato il vetro della sua utilitaria in frantumi, proprio per un tentativo di furto. I cittadini fanno appello agli amministratori affinché il percorso venga messo in sicurezza. Non chiediamo asfalti ed opere secondarie, ma piccoli lavori di reggimentazione e captazione delle acque, un manto stradale adeguato, anche se brecciato, il contenimento delle frane ed un'ordinaria manutenzione, ma purtroppo ad oggi siamo abbandonati. Protesterei anch'io come loro, ma non è vero che i residenti di quella zona sono rimasti inascoltati. È quanto ha dichiarato il sindaco di Castellalto, Vincenzo Di Marco, rispondendo alle critiche sollevate dagli abitanti di via Colle di Giorgio. Sentiamo il servizio. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Castellalto, Vincenzo Di Marco. Dico subito che comprendo lo sfogo dei residenti in via Colle di Giorgio, scrive, probabilmente stessi lì anch'io da cittadino farei lo stesso. Però non è corretto dire che sono rimasti inascoltati. L'amministrazione comunale, dice Di Marco, in una riunione di qualche mese fa con tutti i proprietari confinanti della strada, alla quale anche i residenti hanno partecipato, ha definito alcune azioni utili sia private che pubbliche e buone prassi da mettere in atto da subito. Tant'è che le cose già sono migliorate. Abbiamo approvato il bilancio di giunta e i primi di agosto lo approveremo definitivamente in Consiglio. Lì abbiamo previsto i soldi, circa 20 mila euro per i lavori, sulla strada comunale di Colle di Giorgio. Tra pochi giorni i tecnici incaricati dal Comune, prosegue Di Marco, rimetteranno un progetto esecutivo di intervento sulla strada, al quale ha legato anche uno studio scientifico di azioni concrete da realizzare per lo scolo delle acque bianche, al fine di evitare, nel futuro, che le opere che andremo a realizzare verranno spazzate via così come è successo per tanti anni, con gli interventi tampone che sono stati posti in essere. I lavori partiranno per settembre, prima dell'inizio delle piogge, così da risolvere le criticità più forti. I cittadini, conclude il sindaco di Castellalto Di Marco, pur se di una piccola contrada possono stare tranquilli e li rassicuro che saranno trattati al pari di tutti, come sempre abbiamo cercato di fare. E a Bellante partiranno presto i lavori di messa in sicurezza idraulica a Molino San Nicola, approvato dalla giunta provinciale il progetto esecutivo di 619 mila euro. Per l'intervento verranno utilizzati fondi regionali destinati alla difesa del suolo, riprogrammati insieme alla regione dopo l'alluvione del 2011. Ammonta ad oltre 4 milioni di euro la somma quantificata dai giudici d'appello nella sentenza dello scorso 14 luglio che il comune di Giulianova dovrà versare alla famiglia Franchi per l'esproprio effettuato nel lontano 1979 della loro area tra Viale Orsini e il lato ovest del lungomare Zara adibita a Parco Pubblico, l'attuale Parco degli Eucalipti con Bambinopoli Comunale. Si tratta, dichiara il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro, di uno degli espropri più famosi tra quelli compiuti a cavallo tra gli anni 70 e 80 e i cui effetti, come noto, si sono prodotti nell'ultimo decennio andando ad incidere pesantemente sulle casse comunali. Lo prevedevamo però, dice Mastromauro, e come formichine abbiamo accantonato le somme necessarie. E restiamo a Giulianova, tolleranza zero per coloro che lasciano in strada le deiezioni canine. Parola del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro. Le deiezioni canine sono un problema che riguardano, ahimè, tutta l'Italia, ma il primo cittadino di Giulianova vuole andare in fondo a questa storia. Ma guardi, io quattro anni fa firmai un'ordinanza con la quale inasprivo le sanzioni contro i proprietari di quegli amici a quattro zampe che lasciano le deiezioni canine per strada. Adesso, siccome costoro vanno in giro la mattina prima delle sei, prima delle sette, quando la Polizia Municipale non gira, oppure la notte, allora io ho dato disposizioni al comando dei vigili di fare ispezioni e servizi anche in quelle ore notturne, tolleranza zero, saranno puniti veramente tutti quegli sporcaccioni, maleducati, che non sono i nostri cani, ma sono i proprietari che in questo modo lasciano sui percorsi cittadini appunto queste deiezioni che sono una cosa veramente vergognosa. Sappiano tutti costoro che se vengono beccati senza la paletta, senza il sacchetto, anche se non stanno facendo nulla con il cane, verranno puniti. L'educazione civica è al primo posto, chi non ce l'ha deve pagare con le proprie tasche. Questa mattina i fruitori del ponticello in legno che collega Alba Adriantica e Villarosa hanno avuto una brutta sorpresa intorno all'ora di pranzo quando hanno trovato il ponte completamente sbarrato e quindi inaccessibile. Ce lo ha segnalato una signora di Alba che va al mare a Villarosa. Il ponte, secondo le informazioni che abbiamo raccolto, è chiuso da oggi e per i prossimi dieci giorni per lavori di consolidamento voluti dai due comuni competenti Martinsicura e Alba Adriatica. I residenti e i turisti che oggi hanno patito i disagi ed alcuni hanno anche dovuto attraversare il fiume, si chiedono perché i lavori li stanno facendo nel periodo di alta stagione quando le due località sono piene di turisti. Tanta, tantissima musica di tutti i generi nell'ambito della settimana mozartiana di scena in questi giorni nel centro storico di Chieti in servizio. Dalle celebriari di Mozart alla contemporaneità di Tony Edli, leader degli Spandau Ballet, dai virtuosismi di Ramin Barami, grande interprete di Bach, al tango del famoso bando neonista galliano. Ai grandi nomi del jazz come il pianista Uri Kane, il clarinettista Gabriele Mirabassi e l'abruzzese Michele Di Toro, senza dimenticare la musica sinfonica, il gala di lirica e le performance di danza. Questo e molto altro nel cartellone della quindicesima edizione della settimana mozartiana in corso di svolgimento nel centro storico di Chieti. Quest'anno i salotti sono dieci. La parte del Leone la fa, come sempre, il salotto numero uno di Piazza San Giustino, che ospita la maggior parte degli eventi principali. A partire dal concerto di apertura dello scorso lunedì in Cattedrale, dove l'orchestra sinfonica bruzzese, in collaborazione con il Conservatorio Casella dell'Aquila e D'Annunzio di Pescara, si esibita nella messa dell'incoronazione per soli, coro e orchestra in do maggiore. Anche l'evento di chiusura verrà ospitato dallo stesso salotto quando sul palco di Piazza San Giustino, alle ore 21 della prossima domenica, partirà la maratona mozartiana. Il secondo salotto, allestito all'antica pescheria e intitolato Primo Applauso, è invece dedicato alle giovani leve, ai talenti emergenti delle scuole di musica. Il terzo salotto, a Porta Pescara, è tradizionalmente riservato al jazz. Il quarto salotto, si trova in largo Vico Marcello e tutte le sere, a partire dalle ore 21 e 30, ospita uno spettacolo di statue viventi. Il quinto è invece una novità assoluta, viene allestito nel chiosco appena ristrutturato di Palazzo Martinetti Bianchi e, anche per la particolare conformazione acustica dello spazio, è dedicato alla musica da camera. Lo spettacolo della vestizione della dama partirà ogni sera alle ore 22 nel salotto numero 6 di Piazza Vico. A Piazza Valignani invece si trova il salotto d'accoglienza, attivo sin dalle ore 17. Alla villa comunale si trova il salotto numero 8, pensato per divertire soprattutto i più piccoli, che troveranno Poni a loro disposizione per andare a fare una passeggiata lungo la villa comunale. Anche il nono salotto, in largo Teatro Vecchio, è stato ideato per catturare la fantasia dei bambini, visto che ogni sera, a partire dalle 21 e 30, ospita lo spettacolo di Burattini a cura di Giovanni Piazza in arte giogoloso. Il decimo salotto è ambientato all'interno del teatro Marrucino ed è dedicato alla mostra La musica in cartolina a cura di Vittorio Antonellini, che ripercorre cento anni di storia sociale e musicale attraverso le cartoline illustrate. Per tutti gli altri dettagli concernenti il programma della quindicesima edizione della settimana mozzartiana si rimanda al sito del comune di Chieti. A Pescara, Mediterranea 2014, una delle manifestazioni di richiamo del calendario predisposto dalla locale Camera di Commercio e Servizio. Da quasi 30 anni è la mostra principe dei prodotti tipici agroalimentari d'Abruzzo. Mediterranea ospita ogni anno le principali e più autorevoli imprese del comparto agroalimentare, oltre a numerose associazioni di settore e ad amministrazioni comunali delle aree regionali a vocazione agricola. Una 29esima edizione che si terrà i prossimi venerdì, sabato e domenica, così il Presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci. È la manifestazione di punta dell'ente camerale che ribadisco negli anni è sempre più cresciuta, d'altronde i numeri sono talmente importanti che fanno comprendere la portata dell'evento. L'anno scorso abbiamo avuto circa 65 mila presenze, per cui quest'anno ci siamo sforzati di dare qualcosa di più, in particolare avremo i 20 anni delle città dell'Oglio, ci saranno questi 13 comuni abruzzesi che saranno presenti, si parlerà di olio con funzionari del Ministero delle Politiche Agricole, ci sarà il famoso giornalista enogastronomico Carlo Cambi, avremo tutta una serie di aree tematiche, tra cui la nostra birra artigianale in collaborazione col Comune di Spettatore che sta crescendo notevolmente, avremo un'area dedicata ai cosiddetti prodotti dimenticati, ci saranno star, vere e proprie star come Nico Romito, ricordo essere uno tra i pochi cuochi a tre stelle, chef a tre stelle, per cui aspettiamo tutti i turisti. Nonostante i periodi, nonostante la crisi, Mediterranea vede un incremento di aziende, passiamo da 57 aziende a 62 aziende, è un segnale che leggiamo con assoluta importanza e lo sottolineiamo. Ed è stata presentata questa mattina la 34esima tendopoli di San Gabriele che si svolgerà dal 19 al 23 agosto prossimi al Santuario di San Gabriele. Il tema che affronterà la prossima tendopoli è periferie grembo della tenda di Dio che trae spunto da una riflessione di Papa Francesco. Il servizio. Dal 19 al 23 agosto a San Gabriele torna la tendopoli giunta alla 34esima edizione. Tra gli ospiti di quest'anno il cardinale Dionigi Tettamanzi e Claudia Coll. Gli ospiti di quest'anno importanti, il primo penso che sia Tettamanzi che verrà l'ultimo giorno a concludere questa bellissima esperienza della tendopoli, poi avremo Claudia Coll, ma non tanto soltanto lei ma tutta la sua truppa che guida il suo gruppo di ballo, di teatro che guida Roma, dove c'è anche la Cristina che è andato ultimamente a Voici. Quindi abbiamo questa bellissima presenza, quindi questo bel branchetto. Poi abbiamo il direttore del Iesus, della San Samba del Vaticano, abbiamo il responsabile della pastoralio giovanile nazionale. Ecco, questi sono i personaggi più importanti. Quanti giovani te prevedete? Noi come l'anno scorso pensiamo di stare i stessi numeri, 500-600 ragazzi. Questa è la nostra attesa, la nostra speranza. Ma quello che conta, a noi ci interessa molto che arrivi ai ragazzi il messaggio. Le periferie, chiederemo della tenda di Dio, la periferia non è un luogo da scartare, ma è un luogo su cui investire. La testimonianza di chi la tendopoli l'ha vissuta per più di 20 anni? Sì, sì, sì. Per più di 20 anni. Veramente ho iniziato, ero adolescente, avevo 15 anni. È stata per me importante per la mia maturazione, sia come uomo, perché ormai sono abbastanza adulto, sia come educatore che come persona che comunque poi si è impegnata anche nel proprio territorio, con la parrocchia, con le varie associazioni. Perché a Dendopoli è così, se uno si lascia abitare da questa tenda, che coinvolge molti ragazzi in giro per l'Italia, poi non puoi farne a meno. Devi tornare ogni anno, cercare di fare attività in parrocchia con i ragazzi del gruppo e poi cercare anche di portarlo agli altri per far capire ai giovani che ci sono altre alternative, c'è possibilità di scelta e puoi stare a loro a scegliere. E adesso vediamo insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it. Previsioni in Abruzzo. Tempo caratterizzato da cielo in prevalenza sereno per l'intero arco della giornata su tutto il territorio. Temperature stazionarie, massime comprese tra 27 e 30 gradi nelle conche aquilane marsicane, tra 28 e 31 gradi sulle pianure adriatiche, venti moderati settentrionali, mari poco mossi. In provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio, dal pomeriggio fino a notte, cielo in prevalenza sereno. Temperature stazionarie, massime comprese tra 30 e 33 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 29 e 32 gradi sulle coste, venti moderati settentrionali, mari poco mossi. Siamo allo sport, iniziamo con il calcio. Il Teramo prosegue regolarmente il suo ritiro in Trentino e nel frattempo gli uomini di mercato bianco-rossi si stanno muovendo per completare definitivamente la rosa. Oltre a Torromino, attaccante che interessa anche la cremonese e il Matera, si pensa ad un altro centrocampista. I diavoli bianco-rossi infatti hanno chiesto informazioni su Marco Ilari, centrocampista classe 89 che nell'ultima stagione ha militato tra le file del Martina Franca, segnando ben sette reti. E adesso spostiamoci a Malè, sul campo di allenamento del Teramo Calcio in Trentino. Il neoattaccante del Teramo, Alfredo Donnarumma, ha buone sensazioni, sia per il lavoro che stanno svolgendo i bianco-rossi che per il prossimo campionato. Abbiamo avvicinato anche il preparatore atletico dei bianco-rossi, Antonio Del Fosco, che spiega come proseguirà la preparazione pre-campionato. Va tutto bene, è stato un impatto positivo, sia con gli amici che con lo staff, quindi va tutto bene. Sinceramente ho trovato dei ragazzi veramente bravi, ragazzi, che ti mettono a tuo agio. Non conoscevo nessuno, solo Brucaletta, quindi va bene così. Il ritiro è fatto proprio per questo, per caricare e per trovare la forma ideale. Il ritiro è una tappa importante per il proseguo del campionato, quindi siamo pronti. Ho visto che ci sono comunque tanti ragazzi di qualità, bisogna andare avanti e penso che il feeling aumenterà sempre giorno dopo giorno. Sappiamo che il giorno in IC è quello più difficile, però comunque quello che sia sì è importante che noi siamo pronti mentalmente, e carichi per affrontare comunque un campionato difficile rispetto agli altri anni, quindi è uguale dove ci metteranno. Siamo passati a 400 metri a livello del mare di San Gabriele, a 1000 metri qui nella Valle del Sole, quindi a Malè. Un centro che è stato studiato diciamo un po' a tavolino, perché il nostro responsabile team manager ha provveduto alle nostre esigenze, perché richiedere un posto in altitudine con altezze superi 1300 metri permettevano ai giocatori di poter riposare in maniera più consona, permettevano inoltre di poter, oltre che riposare, anche di ossigenare meglio il muscolo, perché in queste altitudini c'è il fenomeno dell'acclimatazione, dove l'organismo soffre per i primi 10-15 giorni per poi adattarsi, quindi va a migliorare la velicolazione dell'ossigeno, per avere quindi una migliore risposta per rispondere ai carichi che andremo a fare poi giù a Teramo. Il piano lavorativo dovrà aver fatto quindi degli obiettivi di capacità organica, dopodiché ci sposteremo su obiettivi di resistenza specifica, per andare poi alla resistenza alla velocità e quindi forse esplosive a velocità che toccheremo sicuramente giù a Teramo. Sono stati presentati ieri nella sede di Gran Panorama Riccardo Perpetuini e Giovanni Zandrini, due nuovi acquisti dell'Aquila Calcio. Il vicepresidente del Rosso Blu, Massimo Mancini, ha dichiarato Stiamo allestendo una grande squadra, i complimenti vanno allo staff e ad Ercole di Nicola. Ora serve l'aiuto degli aquilani che dovranno sostenerci con gli abbonamenti. Per ciò che riguarda il mercato, la società abruzzese ha parlato con l'entourage del Terzino, della Roma frascatore per il prestito e si attendono delle risposte. Nelle prossime ore invece firmeranno Maccarone e San Domenico. E sempre la società aquilana ha prelevato tre giovani calciatori dal vivaio del Real Casarea, un club di puro settore giovanile, riferimento importante in campagna per i club professionistici vista la qualità del vivaio. I tre giovani calciatori, tutti classe 2000, dunque di appena 14 anni, sono l'attaccante Pasquale Russo, il centrocampista Matteo Cimmino e il difensore Emanuele Cerrato. In Serie D il Chieti continua a lavorare per formare un organico competitivo. Ufficiali gli arrivi di Federico Delgrosso e Luca Giammarino che hanno siglato un contratto annuale. Nella giornata di sabato metteranno Nero su Bianco anche il Terzino, Mino Margagliotti e la mezzala Tiziano Prinari. I teatini però stanno lavorando per portare in Abruzzo anche il centrocampista Girolamo, D'Alessandro, classe 82 ed ex di Teramo e Giulia Nova. Il DS Omar Trovarello, inoltre dopo aver quasi chiuso la trattativa con Gennaro Vitale, è alla ricerca di un attaccante. Fabio Ceccarelli e Andrea Ferretti sono due nomi che interessano insieme a quello di Nunzio Maiella del Gualdo Casalcastalda. Presentata alla Sala San Carlo di Teramo la nuova scuola calcio Gaetano Bonolis Teramo. La neonata società che porta il nome del compianto Dottor Bonolis punta a formare uomini prima ancora che calciatori. Parola del Presidente Massimo D'Aprile. Massimo D'Aprile, la presentazione qui alla Sala San Carlo di una nuova scuola calcio, la Gaetano Bonolis Teramo. Com'è nata questa iniziativa? Come abbiamo detto in conferenza è nata in un modo spontaneo, con l'obiettivo di regalare qualcosa a Teramo e ai ragazzi di Teramo, con l'obiettivo di fare molto bene, con tante iniziative che abbiamo esposto durante la conferenza stampa, con uno sponsor tecnico importante come quello della Lotto che in ogni caso ci affiancherà per quanto riguarda la fornitura, con tante piccole iniziative che in ogni caso sono lunghe da elencare, però in ogni caso molto importanti e speriamo in ogni caso di creare qualcosa di buono sicuramente per la città e per i bambini di Teramo. Il ricordo di una persona che ha fatto tanto e che ha dato tanto allo sport Teramano, il dottor Gaetano Bonolis? Sì, come ho detto in conferenza è un nome che deriva da una promessa fatta dal sottoscritto al dottore quando era ancora in vita, diciamo nel periodo in cui non stava tanto bene. In quel periodo gli ho detto che sicuramente avrei cercato di fare qualcosa affinché il suo nome restasse nel tempo. Mi auguro che questa scuola calcio resti nel tempo, ne sono sicuro, affinché il nome del nostro dottore venga portato un pochino in giro per l'Italia. La scuola calcio sarà affiliata anche con una grandissima società a livello nazionale ed europeo, la S Roma? Sì, è un'affiliazione importante perché in ogni caso la presenza della Roma nella giornata odierna, lo testimoniano, sono venuti 5 pezzi da 90, chiamiamoli così, il settore giovanile, Bruno Conti verrà molto probabilmente all'inaugurazione del 2 settembre, è una collaborazione fattiva, una collaborazione basata su delle linee guida che ci hanno dato loro, sulle risposte che hanno avuto da parte nostra e quindi in ogni caso speriamo che tutto vada bene. La Gaetano Bonolis Teramo avrà anche uno staff tecnico d'eccellenza, con nomi come Francesco Iannetti o la grande bandiera ex Teramo Fabrizio Grilli? Sì, ma oltre al nome che secondo me vale poco perché il nome deve poi riportare sul campo quello che è la realtà, sono persone che si aggiornano quotidianamente, sono persone che amano i ragazzi, sono persone che possono donare qualcosa di importante ai ragazzi di Teramo. Quindi dietro a Luca Di Domenico, Antonio Luzzi, Francesco Iannetti, Claudio Belfiore, Angelo Tritella e Stefano Cognata c'è anche Fabrizio Grilli che oltre a essere è stata una bandiera e sicuramente un preparatore dei portieri di altissimo profilo. La palla a mano femminile di Serie A, sono otto le squadre al Via, la stagione comincia il 20 settembre, tra le squadre al Via c'è anche il Teramo del tecnico Settimi Massotti che giocherà la prima gara del campionato in casa ospitando il Conversano. Il basket a Roseto dovrebbe arrivare il playmaker Ianchiel Moreno, cubano di nascita, classe 90 ma italiano di formazione cestistica, già nazionale con l'Italia Under 18. La passata stagione Moreno l'ha iniziata a Brescia nella serie DNA Gold, poi a gennaio è passato al Rimini in DNB. Intanto domani alle 17 presso l'Hotel Liberty di Roseto si terrà una conferenza stampa convocata dai dirigenti del Roseto Sharks. Come già annunciato ieri, Jeremy Saffold è un giocatore della Proger Chieti, l'americano vestirà la canotta numero 34, ora c'è anche l'ufficialità. E Valerio Polonara, il nuovo acquisto dell'amatori Pescara, il centro fratello del più famoso Achille, ex Teramo Basket, nell'ultima stagione ha giocato a Lanciano, sempre in DNB, un pezzo pregiato dunque per il roster di coach Giorgio Salvemini e con il basket vi diamo questa edizione del nostro notiziario. Grazie per l'attenzione, buona serata.